Adesso sì, è tutto ufficiale, tutto bellissimo. Quella che era poco più di una bozza o un'utopica idea, ora è magnificamente olio su tela. Terrà da conservare o appendere in salotto. Terrà da contemplare. Terrà da sedersi i comori su un tappeto e restare a guardarla pensando e ripensando a quanto incredibile sia stato il percorso che abbia portato alla realizzazione di quel sogno. Dopo giorni di trepidante attese, infatti, è giunta lo scorso donnaio 8 giugno la conferma da parte del Consiglio federale della promozione diretta al prossimo campionato di Serie B da parte del Futsal Bitonto 2019. Una società, quella nero verde, che dopo la vittoria dello scorso campionato di C1 concede dunque il bis, dimostrandosi ancora una volta società solida, vincente e non poi così tanto piccata in uno sport ingiustamente considerato minore. Certo è che di questa stagione, calcio o meno, ci si ricorderà tutto. Ci si ricorderà di una stagione che per i bitontini i propri indizi sui suoi risvolti thriller le aveva già dati in abbondanza la prima giornata a Brindisi quando sotto le 4 reti a 0 i nero verdi furono in grado di ribaltare il risultato vincendo poi per 5 a 4. Ci si ricorderà di un campionato intero passato in vetta alla classifica o ad un sospiro dalla capolista. Ci si ricorderà della tenacia, della caparbietà e della forza fisica e mentale avuta durante tutta la stagione per non gettare mai la spugna. Più di tutto però ci si ricorderà del modo in cui il futsal bitonto 2019 è riuscito a conquistare sul campo una vittoria che la consegna per sempre nella storia. Ci si ricorderà del grado all'ultimo respiro che se non rappresentano una di quelle favole sportive che ciascuno di noi se ne deve vivere almeno una volta nella vita poco ci manca. Ci si ricorderà degli abbracci, delle sultanze, della commozione e di quella sensazione che quelle reti, all'apparenza solo dovere e nulla più, avrebbero invece condotto i nero verdi verso qualcosa di memorabile. Quel qualcosa che oggi, a distanza quasi di una settimana, oltre ad avere due colori e diversi modi di averla festeggiata, ha finalmente anche un nome e si chiama Serie B.